E gli entrò, facendo mostra di un umore che poteva dirsi benefico, per la prima classe già così ben illuminata come un nuovo raggio di sole. La luce mattutina che giocava tra le piante rideva sulle pareti ebbe nuovo lustro dal saluto benigno di Monsieur Paul. Davvero francese, per quanto non sappia perché dovrei dire così, dato che il suo non era un carattere francese nella bassa incurienne, si era vestito in modo adatto alla situazione e all'occasione. Il suo profilo non era oscurato dalle pieghe incerte e sinistre misteriose del suo capotto scuro come la fuligine, al contrario. La sua figura, così com'era, non intendo fare un complimento, era messa a risalto da una giacca e da un panciotto di seta piuttosto graziosa a vedersi. L'ardito e pagano buone grec era scomparso. Arrivò a testa nuda, portandone la mano inguantata a un cappello cristiano. L'omino aveva insomma un bel aspetto, bellissimo. C'era una limpidezza amichevole nel suo occhio azzurro e un calore di buoni sentimenti nella sua carnagione scura che potevano perfettamente tenere il posto della bellezza. Non era davvero il caso d'osservare che il suo naso, pur essendo tutt'altro che piccolo, non aveva una forma nitidamente disegnata, le guance magre, la fronte segnata e squadrata, la bocca ben diversa da un bocciolo di rosa. Lo si accettava così com'era e si sentiva che la sua presenza era tutt'altro che avvilente e insignificante. Si avvicinò alla cattedra e vi depose sopra cappello e guanti. «Buongiorno, miei amici», disse in un tono che in qualche modo compensava diverse tra noi delle molte frasi taglienti e brontolisse il vaggio di ti altre volte. «Non un tono giocondo, d'amicone, e meno ancora un accento ontuoso e pretesco, ma una voce che apparteneva a lui solo, una voce che usava quando il suo cuore portava direttamente le parole alle labbra. Quel cuore sapeva parlare veramente a volte, pur essendo irritabile. Non era un organo indurito. Aveva al centro un punto più tenero della tenerezza di un uomo, un punto che lo rendeva umile verso i bambini e lo legava alle ragazze e alle donne, con le quali, per quanto si ribellasse, non poteva disconoscere la propria affinità, né negare interamente che tutto sommato si trovava meglio con loro che col proprio sesso. «Auguriamo tutta, monsieur, una buona giornata e gli presentiamo le nostre felicitazioni per l'anniversario del suo compleanno», disse madame Moselle Zélie, eleggendosi a portavoce dell'assemblea. Dopodiché, avanzando con contorcimenti affettati, ma non più marcati di quanto le fosse indispensabile per effettuare un movimento qualsiasi, depose davanti a lui il suo costoso mazzo di fiori. Il professore si inchinò a guardarli. Seguì la lunga fila delle offerte. Tutte le allieve, passandogli dinanzi con quel passo scivolato proprio delle forestiere, deponevano il loro tributo e ogni ragazza sistemò così abilmente il proprio dono che l'ultimo mazzo sulla scrivania formò il vertice di una piramide di corolle, una piramide che sfioriva, si spandeva e torreggiava con tale esuberanza da eclissare alla fine l'eroe che vi stava dentro. Terminata questa cerimonia, tutte si misero a sedere e rimanemano in un silenzio totale in attesa del suo discorso. Credo che trascorsero forse cinque minuti di silenzio, dieci e ancora nessun suono. Molte delle presenti cominciarono a domandarsi che cosa stesse aspettando Moselle e ne avevano ben diritto. Senza voce invisibile, immobile e muto rimaneva fermo dietro un montaggio di fiori. Finalmente si odìò una voce piuttosto profonda, quasi uscisse da una buca. E se la tu? Mme Moselle Zelie si guardò attorno. Avete offerto tutto il vostro mazzo? domandò alle allieve. Sì, tutte avevano dato i loro fiori, dalla più anziana alla più giovane, dalla più alta alla più piccina. La maestra decana riferì come stavano le cose. E se la tu? Fu ripetuto con un'intonazione che, per profonda che fosse stata la prima, era discesa adesso di qualche nota ancora. Monsieur, disse Mme Moselle Zelie, alzandosi in piedi e parlando questa volta col suo solito dolce sorriso. Ho l'onore di dirle che, con un'unica eccezione, tutte le persone di questa classe le hanno offerto un mazzo di fiori. Quanto alla signorina Lucy, Monsieur vorrà concederle la propria indulgenza, essendo forestiera non conosce probabilmente i nostri usi, oppure non ne ha colto il significato. E la signorina Lucy ha considerato questa cerimania troppo frivola per onorarla col proprio contributo. Magnifico. Porbottai fra i denti. Non è una cattiva parlatrice, Zelie, quando si mette? La risposta concessa a Mme Moselle Saint-Pierre dalla cattedra si limitò a un gesto della mano che spuntava dietro alla piramide. Atto che sembrò esprimere disprezzo per le parole e ingiungere silenzio. Poco dopo, una figura seguì quella mano. Monsieur, emersa dalla sua eclisse e mostrandosi davanti alla pedana e guardando fisso davanti a sé un grand map monde che copriva la parete opposta, domandò per la terza volta, e ora, in tono veramente tragico. E se la tu? Avrei potuto rimettere le cose a posto alzando e facendo scivolare nella sua mano la scatoletta di conchiglia rosa che tenevo stretta in quel momento nella mia. Era un atto che avevo davvero intenzione di compiere, ma prima il lato comico del comportamento di Monsieur mi aveva ispirato alla tentazione di rimandarlo e ora l'interferenza affettata di Madame Mosè Saint-Pierre mi spinse di nuovo ad astenermi. Il lettore, non avendo avuto finora alcun motivo di ascrivere al carattere della signorina Snow la minima pretesa di perfezione, non resterà troppo sorpreso nell'imparare che si sentiva tanto perversa da non voler difendersi da qualsiasi imputazione che la parisienne avesse pensato bene di insinuare sul suo conto. Inoltre Monsieur Paul appariva così tragico e prendeva così sul serio la mia defezione da meritare che io lo mandassi in collera. Mi teni dunque la scatola e mi dè di un contegno, rimanendo ferma e insensibile come un sasso. «Va bene!» lasciò sfuggire finalmente Monsieur Paul dalle labbra e pronunciate la frase, l'orma di una forte parossismo, un'ondata di collera, di disprezzo, di fermezza, passa sulla fronte, le agita la bocca e gli segnò le guance. E rinunciando a ogni altro commento, si lanciò nel suo solito discorso. Non ricordo affatto come fosse questo discorso, non lo ascoltai. La vista della sua rinuncia, del modo brusco con cui aveva cancellato la mortificazione e l'irritazione che provava, mi aveva ispirata a una sensazione in cui si dissolse il ridicolo effetto del suo ripetere «E se la tu?» Verso la fine del discorso ebbe luogo un gradevole diversivo. La mia attenzione venne di nuovo attratta in modo divertente. Per un piccolo movimento accidentale credo di aver lasciato cadere il vitale per terra, mentre mi chinavo per raccoglierlo sbatté la testa contro lo spigolo aguto della scrivania. Genere di incidente che, irritante e di diritto per me sola, in realtà causò naturalmente una gran confusione. Monsieur Paul si irritò e, abbandonando la sua calma forzata e gettando al vento quella dignità e quella padronanza di sé dalle quali non si sentiva mai portato a lasciarsi intralciare a lungo, si lanciò nella direzione più adatta per ritrovarsi a suo agio. Durante il suo discorso era riuscito, non so come, ad attraversare la manica sbarcando in terra britannica. Ed è là che lo trovai quando cominciai ad ascoltarlo. Lanciando uno sguardo rapido e sprezzante intorno alla stanza, uno sguardo che fulminava o che intendeva fulminare quando passò su di me, si gettò con furia contro le inglesi. Mai. Ho udito trattare le donne inglesi così come le trattò Monsieur Paul quella mattina. Non risparmiò nulla, nel cervello, nella moralità, nelle maniere, nell'aspetto. Ricordo in modo particolare i suoi insulti alla loro alta statura, al collo lungo, alle braccia magre, agli abiti trasandati, all'istruzione pedantesca, all'ampio scetticismo, all'insopportabile orgoglio, alla pretenziosa virtù. A questo punto digrignò ostiosamente i denti, facendo intendere che se solo avesse osato avrebbe avuto da dirne di cose straordinarie. Si mostrò rapioso, acre, selvaggio e per conseguenza naturale, d'una bruttezza detestabile. Ometto malvagio e velenoso, pensai? Dovrei tormentarmi per paura di farti dispiacere o di ferire i tuoi sentimenti? No, davvero? Mi sarai indifferente come il più misero tra i mazzolini della tua piramide. Mi duole dire che non riusci a realizzare in pieno questa risoluzione. Per un po' gli insulti all'Inghilterra e gli inglesi mi trovarono e mi lasciarono impassibile. Li sopportai abbastanza stoicamente per una quindicina di minuti. Ma quel pappagallo sibilante era deciso a beccare e dissi tali cose soffermandosi non soltanto sulle donne, ma sui nostri nomi più eccelsi e i nostri uomini migliori, sporcando lo scudo di Britannia e macchiandone di fango la bandiera. Che alla fine mi ferì davvero. Con Joya Malvagia sfoderò le più vistose falsità storiche correnti in Europa, le più offensive che si potessero immaginare. Zélie, insieme all'intera classe, si aprì tutti in un largo sorriso di Joya e vendicativa. È curioso infatti notare l'odio che questi puffoncelli della Bassancourt nutrono in segreto per l'Inghilterra. Finalmente battei un colpo secco sulla mia scrivania, aprì le labbra e cacciò questo grido. «Vive l'Angleterre! L'histoire et les heures! Abba la France! La fission et les facains!» La classe rimase sbalordita. Credo pensassero che io fossi impazzita. Il professore si apre la bocca col fazzoletto, sorridendo diabolicamente tra le pieghe. Piccolo mostro di malignità. Adesso credevo ad aver vinto perché mi aveva fatto andare in collera. In un attimo si fece di buon umore. Con grande dolcezza represe l'argomento dei suoi fiori. Parlò poeticamente e simbolicamente della loro dolcezza, profumo, purezza eccetera. Fece paragoni francesizzanti tra le giovani ragazze e le dolci corolle che gli stavano davanti. Rivolse a madame de Saint-Pierre un complimento affettato sulla superiorità del suo mazzo e terminò annunciando che nella prima giornata primaverile veramente bella, mite e profumata, intendeva condurre l'intera classe a far colazione in campagna. «Per lo meno quelle della classe», soggiunse con enfasi, che poteva includere nel numero delle sue amiche. «Dunque io non ci sarò», dichiarai senza volerlo. «Sicuro?» fu la sua risposta. E raccogliendo tra le braccia i suoi fiori, scompari dalla classe in un baleno. Mentre io, riposti il mio lavoro, le forbici, il vitale e la trascurata scatoletta nella mia scrivania, mi precipitai di sopra. Non so se lui si sentisse accaldato e incollera, ma confesso che così mi sentivo io. Eppure la mia era una strana collera evanescente. Ero seduta da meno di un'ora sull'orlo del mio letto, rievocando più e più volte il suo aspetto, i suoi modi, le parole che già sorridevo dell'intera scena. Anzi, provai un po' di rimorso per non avergli offerto la scatola. Era mia intenzione fare il piacere. Il destino non aveva voluto. Durante il pomeriggio, ricordando che le scrivanie della classe erano ripostigli tutt'altro che inviolabili e pensando che fosse meglio recuperare la scatola per via delle iniziali incise sul coperchio, P, C, D e stavano per Paul Carl o Carlos Davide Manuel, il suo nome completo, scesi nell'aula. L'aula dormiva nel suo riposo e festivo. Le allieve esterne se ne erano andate tutte a casa. Le interne erano uscite a passeggiare. Le insegnanti, tranne le sorveglianti della settimana, facevano visite o commissioni in città. Tutte le aule erano vuote, così pure la cansal, con l'enorme solenne globo del lampadario appeso al centro. La sua coppia di candelabri e pubraccia e il pianoforte a coda chiuso, silenzioso, che godeva anche lui della giornata festiva. Mi stupì un poco trovando la porta della prima classe so chiusa. Di solito la stanza, quando era vuota, era chiusa e inaccessibile a tutti, tranne che a Madame Beck e a me, che ne possedavamo la chiave. Mi meravigliai ancora più avvicinandomi nell'udire un vago moto di vita, un passo, una sedia smossa e il rumore di una scrivania che veniva aperta. Sera Madame Beck in giro di ispezione, fu la conclusione alla quale arrivai dopo un attimo di riflessione. La porta semiaperta mi consentì di controllare. Guardai. Non si trattava di Madame Beck nel suo solito abbigliamento da ronda, lo scialle e la cuffia, ma di un uomo in giacca, con la testa scura e i capelli tagliati corti. Questa persona stava seduta sulla mia sedia. La sua mano olivastra teneva aperta la mia scrivania. Il suo naso era invisibile, sprofondato come era tra i miei fogli. Mi voltava alla schiena, ma non poteva sussistere il minimo dubbio sulla sua identità. Si era già tolto l'abbigliamento da cerimonia e era riapparso l'amato capotto macchiato d'inchiostro, il dispettoso bon grec che giaceva per terra, come se fosse caduto proprio allora da una mano colpevolmente occupata. Stipì così con certezza, come d'altronde sapevo già da un pezzo, che quella mano di Monsieur Emmanuel si trovava in intimi rapporti con la mia scrivania, che ne sollevava e riabbassava il coperchio, ne frugava e sistemava il contenuto con una familiarità quasi pari alla mia. La cosa non era per niente dubbia, né Elie desiderava che lo fosse. Lasciava infatti tracce palpabili e riconoscibili da ogni sua visita. Finora però non l'avevo mai colto sul fatto, per quanto stessi attenta non ero mai riuscita a scoprire l'ora e il momento in cui arrivava. Vedevo l'opera ad un folletto nei compiti lasciati lì la sera pieni di errori e ritrovati l'indomani mattina accuratamente corretti e grazie alla sua benevolenza capricciosa godevo di prestiti molto ben accetti e gradevoli. Tra un dizionario giallastro e una grammatica consunta spuntava magicamente un'opera recente, fresca e interessante, oppure un classico reso morbido e dolce dall'età avanzata. Dalla mia scatola da lavoro si affacciava ridendo un romanzo, sotto si annidava il fascicolo, la rivista da cui era stata estratta la lettura della sera precedente. Impossibile dubitare della fonte di simili tesori, non vi fosse stata altra ubicazione, una peculiarità comuna a tutti, che li condannava e li tradiva, risolveva la questione. Odoravano di sigaro. Che era un elemento scandaloso si sa, da principio lo pensai anch'io, aprivo sempre la finestra con qualche esagerazione per dare aria alla mia scrivania mentre con l'indice e il pollice esponevo con gesto schizzinosi fogli colpevoli alla brezza purificratice. Questa cerimonia fu interrotta all'improvviso, ma si io mi scoprì un giorno in quell'atto. Intuì, liberò immediatamente la mia mano dal peso del libro e in un attimo invece per gettarlo nella stufa ardente. Per l'appunto si trattava di un volume che desideravo particolarmente leggere, così per una volta mi mostrei decisa quanto lui e più svelta di lui. Salvata la prede, ripreso il libro, non rischai più. Nonostante tutto ciò, non ero stata ancora capace di interrompere le visite di quel fantasma capriccioso, amichevole e amante dei sigari. Ora, però, l'avevo finalmente visto. Eccolo lì il folletto in persona ed ecco dalle sue labbra la traccia del palido fumo azzurro del suo amato tabacco indiano. Fumava dentro la mia scrivania naturale che questo lo avesse tradito. Urtata da questo particolare, pure contenta di sorprenderlo, contenta voglio dire con quel sentimento misto che coglie la massaia quando scopre finalmente un elfo misterioso e il suo alleato coputissimo nella latteria a fare il muro in un momento inopportuno, avanzai silenziosamente, mi fermai dietro di lui e mi chinai con precauzione sulla sua spalla. Il cuore mi si strinse, vedendo che nonostante l'ostilità di quella mattina, la mia apparente negligenza, la ferita inferta ai suoi sentimenti e l'agitazione cui era stato sottoposto il suo amore, Monsieur, pronta a dimenticare e a perdonare, ne aveva portato un paio di bei volumi, il cui titolo e il cui autore erano garanzie di una lettura interessante. Ora, mentre stava curvo sulla scrivania, ne rovistava il contenuto, ma con mano gentile e attenta, mettendo in disordine, è vero, ma senza recare alcun danno. Il cuore mi si strinse. Mentre mi chinavo su di lui, ed egli ignaro se ne stava seduto facendomi tutto il bene che poteva, e suppongo con sentimenti non privi di bontà nei miei confronti, la colera della mattina mi si sciolse dentro. Non provavo più avversione per il professore Emanuele. Credo che mi sentì respirare, si voltò bruscamente, di temperamento nervoso tuttavia non trasegliva mai e raramente cambiava colore. C'era in lui una certa saldezza. Credevo fosse andata in città con le altre insegnanti, disse, riprendendo saldamente la padronanza di sé, che gli era quasi sfuggita di mano. Sono contento che non sia così. Crede che mi rincresca ad essere stato scoperto? No, davvero. Visito spesso la sua scrivania. Monsieur, lo sapevo. Ogni tanto trova una brochura, un volume, ma non li legge perché sono stati esposti a questo, e mostrò il sigaro. Li sono stati esposti, infatti, ed è un contatto che non li migliora davvero, ma li leggo ugualmente, senza provare piacere. Monsieur non accetta che lo si contraddica. Le piacciono allora almeno in parte. Sono accettabili? Monsieur me li ha visti leggere cento volte, e sa che non ho tanti passatempi a mia disposizione da sottovalutare quelli che lei mi procura. Le mie intenzioni sono buone, e se si rende conto che lo sono, e trae qualche piccolo divertimento dai miei sforzi, perché allora non possiamo essere amici? Un fatalista direbbe, perché non lo possiamo? Oggi, continuò, mi sono svegliato d'umore allegro, ed ero felice entrando nell'aula. Lei mi ha sciupato alla giornata. No, monsieur, soltanto un'ora o due della giornata, e anche allora senza volerlo. Senza volerlo, no. Era la mia festa. Tutte mi hanno augurato felicità tranne lei. Le bambine della terza sezione mi hanno regalato a ognuno un mazzetto di violette, farfugliando i loro auguri. Lei nulla. Non ha il bocciolo di un fiore, non una foglia, non un sussurro, non uno sguardo. Lo ha fatto senza volerlo? Non intendevo far male. Allora non conosceva davvero la nostra usanza. Era impreparata. Avrebbe speso volentieri qualche centesimo in un fiore per farmi piacere se si fosse resa conto che me lo aspettavo. Lo dica e tutto sarà dimenticato e il mio dolore si piaccherà. Sapevo che se l'aspettava, ero preparata, ma non avevo nemmeno un centesimo da spendere in fiori. Va bene, ha ragione di mostrarsi sincera. L'avrei quasi odiata se mi avesse adulato o mentito. Meglio dichiararlo subito. Caro Paul Carl Immanuel, ti detesto, ragazzo mio. Piuttosto che esprimere interesse con un sorriso, affetto con uno sguardo, ma in realtà falsa e fredda in cuor suo. Falsa e fredda, non credo che lo sia, ma ha commesso un grande sbaglio nella sua vita. Questo lo credo. Credo che il suo giudizio sia deviato, che provi indifferenza laddove dovrebbe provare gratitudine e si senta forse devota e infatuata laddove dovrebbe mostrarsi fredda come il suo cognome. Non creda che desideri che lei nutra una passione per me, mademoiselle. Dio me le guardi. Perché trasale? Perché ho detto passione? Ebbene, lo ripeto, una simile parola esiste e anche una simile cosa, per quanto non tra queste mura, grazie al cielo. Lei non è una bambina con la quale non si possa parlare di ciò che esiste, ma ho soltanto pronunciato la parola. La cosa, glielo assicuro, è aliena da tutta la mia vita e dalle mie intenzioni. È morta nel passato, giace sepolta nel presente. La sua tomba è profonda, ben ricoperta di terre da molti inverni. In futuro ci sarà una resurrezione. Ci conto per la consolazione dell'anima mia, ma allora tutto sarà mutato, forma e sentimento. Ciò che è mortale avrà assunto all'immortalità e sorgerà non per la terra, ma per il cielo. A lei, Miss Lucy Snow, dico soltanto, che dovrebbe trattare come si deve il professor Paul Emanuel. Non potevo e non voglio contraddire un simile sentimento. Mi dica, riprese, quando sarà la sua festa e io non lesinerò i pochi centesimi di una piccola offerta? Farà come me, monsieur. Questo oggetto è costato più di qualche centesimo e non mi dispiace averli spesi. Presa la scatoletta dalla scrivania aperta, la mise nelle sue mani. L'avevo sulle ginocchia questa mattina, ripresi, e sembra se si fosse mostrato più paziente e mademoiselle Saint-Pierre meno invadente. E forse dovrei aggiungere, se io fossi stata più calma e più saggia, l'avrei offerto allora il mio regalo. Guardò la scatola, vidi che quella limpida tinta calda e il cerchio azzurro e lucente gli piacevano. Gli disse di aprirla. Le mie iniziali, esclamò, indicando le lettere sul coperchio. Chi le ha detto che mi chiamo Carl David? Un uccellino, monsieur. Vuola sempre fra me e lei? Allora gli si può attaccare un messaggio sotto l'ala, all'occorrenza. Prese il mio nastro, una sciocchezza veramente dal punto di vista del valore, ma lucido di sete e scintillante di perline. Anche questo gli piacque, lo ammirò ingenuamente, come un bambino. Per me? Per lei, sì. È quell'oggetto a cui stava lavorando ieri sera? Quello. L'ha terminato oggi, infatti. L'ha cominciato con l'intenzione di darlo a me? Indubbiamente. Per regalarmi l'un'occasione della mia festa? Sì. E questa sua intenzione è durata sempre, mentre lo ricamava? Assenti di nuovo. In tal caso non dovrò toglierne una parte, dicendo, questo pezzo non è mio. È stato intrecciato col pensiero, rivolto a un altro. E per suo ornamento? Neanche per idea. Non deve dirlo e non sarebbe giusto. Questo oggetto è dunque tutto mio. Tutto suo. Immediatamente monsieur si aprì il cappotto, si sistemò vanitosamente il porto orologio sul petto, lasciandone sporgere il più possibile e nascondendone il meno possibile, perché non nascondeva mai ciò che ammirava e trovava decorativo. Quanto alla scatola, dichiarò che era una magnifica bomboniere. Adorava i dolci, tra parentesi, e siccome amava condividere con gli altri ciò che gli piaceva, offriva generosamente le sue draghe, allo stesso modo in cui prestava i suoi libri. Tra i doni che il buon folletto aveva deposto nella mia scrivania, ho dimenticato di enumerare molte confezioni di cioccolatini. I suoi gusti, infatti, di dolci erano meridionali. Noi, inglesi, li considereremmo infantili. La sua semplice colazione consisteva di solito in una brioche che il più delle volte divideva con qualche bambina della terza sezione. Un regalo è come un complimento fatto, disse richiudendo il cappotto, e non scambiamo più una parola sull'argomento. Dopo aver guardato i due volumi che avevo portato e tagliato alcune pagine col temperino, in genere prima di prestarmi i libri li mutilava, specialmente se si trattava di romanzi, e a volte mi irritavo un poco per la severità della sua censura, perché i tagli interrompevano il racconto. Si alza in piedi, toccandosi cortesemente il buon grec, e mi augurò gentilmente il buongiorno. Siamo amici adesso, pensai, fino alla prossima volta che litigheremo. Forse avremmo potuto litigare di nuovo anche quella stessa sera, ma, incredibile a dirsi, per una volta ci lasciamo sfuggire l'occasione. Contrariamente all'attesa generale, Monsieur Paul si presentò allora dei compiti. Avendolo visto così a lungo la mattina, non ci aspettavamo che tornasse di sera. Invece, non appena ci fummo seduti davanti ai nostri compiti, comparve. Confesso che fui contenta di vederlo, così contenta che non potei trattenermi dall'accoglierne l'ingresso con un sorriso. E quando si diresse verso quello stesso sedile, a proposito del quale era sorto in passato un equivoco così grave, stetti ben attenta a non fargli troppo posto. Egli osservò se mi ritraevo con un lungo e geloso sguardo, ma non mi mossi per quanto la panca fosse un po' affollata. Stava scomparendo l'impulso che una volta mi spingeva ad allontanarmi da Monsieur Paul. Abituata mai al bon greca e al cappotto, la loro vicinanza non mi sembrava più così scomoda né così temibile. Adesso non stavo più seduta, rigida e aspixie, come diceva lui, al suo fianco. Mi muovevo quando avevo voglia di muovermi, tossivo quando era necessario, sbadigliavo perfino se lo stanca. Insomma, facevo quello che mi andava di fare, affittandomi ciecamente alla sua indulgenza. Nella mia avventatezza, almeno quella sera, incontrò la punizione che forse meritava. Egli si mostrò indulgente e benevolo. Nemmeno uno sguardo irritato partite sui occhi né una parola rabbiosa dalle sue labbra. Fin verso la fine della serata non mi rivolse la parola, eppure sentivo, non so come, che era pieno di cordialità verso di me. Il silenzio può essere di vario genere, ha significati diversi. Quella sera nessuna parola avrebbe potuto esprimere una soddisfazione più piacevole della presenza muta di Messie Paul. Quando comparve il vassoio, dando inizio alla confusione della cena, si limitò nell'andarsene a dirmi che mi augurava una buonanotte e dolci sogni. E una buonanotte e dolci sogni ebbi. Capitolo 30. Messie Paul. Il lettore deve essere avvertito comunque di non avere troppa fretta nel trarre con una carità eccessivamente precipitosa le sue benevoli conclusioni, immaginando che da quel giorno Messie Paul fosse diventato un altro personaggio con cui fosse facile vivere e non più portato a spargere pericoli e disagi attorno a sé. No, egli era per indole un ometto dagli umori irragionevoli. Quando era eccitato, e lo era spesso, diventava terribilmente irritabile, senza considerare che le sue vene erano oscurate da una livida tintura di bella donna, l'essenza stessa della gelosia. E non intendo semplicemente la tenera gelosia del cuore, ma quel sentimento più severo, più angusto, che ha sede nella testa. Guardavo Messie Paul mentre aggrottava la fronte e spingeva in fuori il labbro, leggendo qualche mio esercizio che conteneva meno errori di quanto avrebbe desiderato. Perché gli piaceva? Che io ne commettessi. Un mucchio di errori gli riusciva dolce come una manciata di nocciole. Guardandolo pensavo che in qualche modo assomigliasse Napoleone Bonaparte. Lo pensò ancora. Gli assomigliava in quanto disprezzava sfacciatamente la magnanimità. Messie Paul avrebbe litigato volentieri con venti donne sapienti, avrebbe messo in opera senza arrossire tutto un sistema di battibecchi e di ricriminazioni verso un intero agglomerato di consorti femminili, senza mai preoccuparsi di mancare o di perdere la dignità. Avrebbe esiliato cinquanta Madame de Stal se lo avessero irritato, offeso o superato, o se gli si fossero opposte. Ricordo bene un caloroso episodio fra lui e una certa Madame Panache, una signora impiegata temporaneamente da Madame Beck per insegnare storia. Era una donna colta, cioè sapeva molte cose e inoltre conosceva bene l'arte di far risaltare al massimo ciò che sapeva. Conosceva un numero limitato di parole e possedeva un'abbondantissima dose di sicurezza. Di aspetto era tutt'altro che priva di attrattive. Credo che molti l'avrebbero chiamata una bella donna. Eppure vi era qualcosa nelle sue grazie, ampie e robuste, come pure nei modi eccitati ed espansivi, che i gusti sottili e capriciosi di Messie Paul non potevano sopportare. Il suono della sua voce, quando echeggiava attraverso il carré, lo metteva in uno strano stato di agitazione. Il suo passo lungo sciolto, quasi una falcata, quando risuonava nel corridoio lo induceva spesso ad afferrare i propri fogli e a fuggersene all'istante. Con intenti maligni, egli un giorno pensò di entrare senza essere invitato nella classe di Madame Panache. Rapido come il lampo, valutò il metodo di insegnamento della maestra, che differiva da un certo suo amato piano didattico. Con poche cerimonie e cortesie ancora minore, indicò quelli che a suo avviso erano gli errori di lei. Non so se si aspettasse sottomissione e attenzione, certo è che incontra invece un'acre opposizione, accompagnata da un sonoro rimproverlo per la sua interferenza veramente ingiustificabile. Allora, invece di ritirarsi con dignità, come avrebbe ancora potuto fare, Messie Paul gettò il guanto della sfida. Madame Panache, bellicosa come Pentesilea, lo raccolsi in un baleno. Schioccò le dita sul viso dell'intruso e gli si precipitò addosso con un fiume di parole. Messie Manuel era eloquente, ma Madame Panache aveva sempre l'ultima parola. Ne seguì uno scontro feroce. Invece di riggere sotto i baffi della bella nemica, con tutto il suo offeso, amor proprio e della chiassosa autodifesa, Messie Paul la onorò della sua collera violenta. La perseguitò vendicativamente e implacabilmente, incapace di riposare tranquillo a letto, di trarre il dovuto beneficio dai pasti e perfino di gustare serenamente il suo sigaro, finché la donna non fu letteralmente sradicata dal collegio. Il professore vinse, ma non posso dire che la loro di tale vittoria gli ombreggiasse con grazia alle tempie. Una volta osai accenargli questa opinione. Con mia grande sorpresa mi dice che io potevo avere ragione e mi dicherò che ogni volta che era costretto a stare in contatto con uomini o donne di quel genere, volgare, autocompiaciuto, di cui Madame Panache era un buon esempio, perdeva il controllo delle proprie passioni. Una versione rigorosa e indicibile lo obbligava a scatenare una guerra di sterminio. Tre mesi dopo, nell'udire che la sua debellata nemica aveva subito rovesci di fortuna e probabilmente si sarebbe trovata in difficoltà per mancanza di lavoro, dimenticò il proprio odio e energico nel bene come nel male, smosse cielo e terra finché non le ebbe trovato un impiego. Quando la donna venne da lui per pacificarsi dopo tutti i loro screzzi passati e per ringraziarlo della sua recente bontà, accade come al solito che la sua voce è un po' forte, le sue maniere un po' sfacciate, agissero in modo tale su di lui da farlo balzare in piedi dopo dieci minuti appena. La congedò, anzi, uscì egli stesso dalla stanza con estrema irritazione. Per continuare il mio audace paragone, anche nell'amore della potenza, nell'avida ricerca della supremazia, Messio Emanuele assomigliava al buona parte, era un uomo al quale non bisognava sempre sottomettersi. A volte era meglio resistergli, era utile fermarsi, guardarlo negli occhi e dirgli che le sue richieste superavano i limiti della ragione, che il suo assolutismo rasentava la tirannia. Gli albori, i primi sviluppi di qualche talento particolare che apparisse alla sua portata e sotto il suo dominio, lo eccitavano curiosamente se non addirittura lo turbavano. Ne osservava minaccioso la lotta per venire alla luce, tratteneva ogni gesto della propria mano, forse diceva fate avanti se ne hai la forza, ma rifiutava di aiutarne la nascita. Nemmeno quando terminate le doglie e il pericolo del primo conflitto iniziava il respiro della vita, nemmeno quando vedeva i polmoni espandersi e contrarsi, ne quando sentiva il cuore battere e scopriva la vita negli occhi si offriva di averne cura. Mostrati sincero prima che io ti ami, così ordinava, e come rendeva difficile quella prova. Quante spine, quanti rovi, quante pietre appuntite spargeva sul cammino di quei piedi non avvezzi a un viaggio tanto disagevole. Osservava senza lacrime, se le prove che esigeva venivano superate con coraggio. Seguiva le orme, che mentre si avvicinavano alla meta, a volte erano macchiate di sangue. Le seguiva severo, montando la più rigida guardia accanto al pellegrino presso dal dolore. E quando finalmente gli permetteva di riposarsi, prima che il sonno potesse chiuderne le palpebre, ne apriva ben bene, con indice e pollice spietati, per contemplare a fondo attraverso la pupilla e l'iride, il cervello e il cuore, per rendersi conto se si potessero scoprire la vanità, l'orgoglio e la menzogna, in qualunque delle loro forme più astute, nei più remoti recessi dell'esistenza. Se poi finalmente permetteva al neofita di dormire, non era che per un momento soltanto. Lo svegliava subito bruscamente per sottoporla a nuove prove. Lo mandava barcollante per la stanchezza a far noiose commissioni, ne metteva alla prova il carattere, il buonsenso e la salute, e soltanto dopo che ogni prova più severa era stata applicata e sopportata, quando era stato usato l'acido più corrosivo e vedeva che il metallo non era rimasto foscato, allora lo riconosceva genuino, eppur rimanendo avvolto nel silenzio, gli stampava il marchio profondo della propria approvazione. Io, che ne parlo, non ignoravo tutte queste pene. Grazie a tutti.